Buon anno a tutti. Buon anno dalla grotta di Betlemme, qui ripresa dalla natività assisiate curata da Giampiero Italiani. È bello poter vivere anche in questo momento di difficoltà, di pandemia e di oscurità, di poter vivere in sintonia con questo messaggio grande partito 2000 anni fa dalla grotta di Betlemme. Qui c'è il nostro Dio e dunque qui ci sono anche le nostre speranze, qui c'è anche il nostro futuro, perché se nasce Dio con noi anche noi possiamo rinascere con Lui. Grazie dunque a Giampiero di questa opportunità che ci dà e auguri a tutti che possiamo davvero guardando il bambino di Betlemme trarre motivi di speranza e riprendere con entusiasmo il cammino di questa città, non lasciarci abbattere dalle difficoltà e Dio non sta lontano. Cammina con noi, si è fatto piccolo bambino per questo. Auguri a tutti.